Ragazzi, che esordio, Vardy ragazzi, 4 gol di Vardy ragazzi, ragazzi, questo sì che è un campione, questo abbiamo trovato un nuovo campione, ringrazio l'Arsenal per averlo ceduto, ma qui la Sandovia ha veramente trovato un nuovo idolo, 8 e mezzo all'esordio, prima partita con Vardy, appena registrato in squadra ragazzi, 4 golletti con l'assistenza di Ibra Cadabra che diventa per l'occasione assist man, 4 gol e Ibra ovviamente 3 assist, grande Vardy ragazzi.